Ciao ragazzi e benvenuti su Gastroodrams. Nel video di oggi voglio andarvi a parlare di un aspetto abbastanza particolare per i batteristi ma super 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 fondamentale e soprattutto molto spesso sottovalutato. Vi voglio parlare di tutto quello che riguarda il live e vi voglio dare un po' di trucchi interessanti. Per questo ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi alcune cose molto 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 importanti per noi perché no vi faccio vedere cosa c'è dentro e poi vi spiego. Questo pacco posso aprirlo anche solo con le mani senza l'utilizzo di forbici e cose varie quindi questo sarà l'unboxing peggiore di sempre. Già finito. Prima cosa che vi voglio far vedere questo qua. Questo qui che poi vi apro e vi faccio vedere bene è il Micromon MA400 di Behringer. Oggi andiamo a vedere tutti i prodotti Behringer perché voglio riuscire ad avere una qualità buona ma senza spendere troppi soldi in pratica. Questo qua dopo vi spiego praticamente è un amplificatore per cuffia che questo ragazzi costa poco e dovete sempre averlo nel vostro zaino. Poi vi spiego perché. Poi allora ecco qua qui abbiamo il Powerplay P1 e il Powerplay P2. Ragazzi questi qua anche sono dei mini amplificatori che servono per gli E-Near Monitor e più che altro sono tascabili sono super comodi vi parlo bene anche di questi. Poi proprio perché vi ho detto i E-Near Monitor eccoli qua MO240 gli E-Near Monitor di Behringer voglio provarli perché anche questi costano poco ma Behringer mi dà sempre delle grandi soddisfazioni. Come sapete io utilizzo l'X-Air 18 come mixer della Behringer tra l'altro ho già fatto un video sull'X-Air 18 ve lo lascio qui sotto in descrizione. Mi trovo molto bene e quindi Behringer mi piace. Mi piace molto soprattutto negli ultimi anni. Voglio provare questi E-Near Monitor. Vediamo come sono. E sempre di casa Behringer. Ultima cosa che vi voglio fare non spacco niente vedere è questo mixerino qua questo mixer qua l'XENYX502 molto semplice da ricordare il nome. Eccolo qua questo è un mixer che per chi lo vede potrebbe sembrare un mixer a pochissimi canali in realtà ha 5 canali un canale mono e 2 canali stereo. Questi quando andiamo live quando abbiamo il click e le sequenze il click e un monitor cioè una spia queste robe qua che vi ho fatto vedere oggi sono oro per noi batteristi perché ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di poter modificare quanto sentiamo il metronomo di poter modificare quanto sentiamo la chitarra al basso le sequenze eccetera 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 questi ci salvano la vita. Quindi mando la sigla e vi spiego come funzionano vi spiego come gestire le vostre sequenze dato che me lo state chiedendo tantissimi ultimamente perché si comincia di nuovo a fare i live quindi andiamo andiamo andiamo. Cominciamo andando ad aprire due cose cioè gli E-Near e il Micromon MA400 è piccolissimo. Si alimenta tramite l'alimentatore che c'è ovviamente in dotazione e questo in pratica va a aumentarvi il segnale che avete d'ingresso perché non tutti lo sanno ma quando andate a suonare live e avete il click e magari vi mandano il click non è che per forza vi arriverà sempre il click cioè il metronomo fortissimo. Quindi potrete scegliere se utilizzarlo forte piano quanto lo volete ma molto spesso arriva piano quindi voi avete bisogno di questo per aumentare il volume costa veramente poco e vi salva la vita vi giuro che mi è già successo di avere dei problemi cioè che sentivo il click molto piano avessi avuto questo avrei risolto tutto. Anche per le prove banalmente andate alle prove vi mettete il metronomo e siete a posto più che altro anche magari adesso poi vi faccio vedere il metronomo lo mandate da un cellulare quindi quel cellulare lì avrà una potenza pazzesca oppure no. Quindi ho collegato il Micromon adesso vado ad aprire anche queste cuffie qua sono super curioso di queste cuffie perché come vi ho detto costano poco ma sono Behringer quindi Behringer è sempre una figata. Vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ah c'è la scatolina sono super potenti sembrano come fattura guardate non so se si riesca a vedere ma sono belli 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 cicciosi quindi adesso io me li vado a mettere e li vado a collegare subito a questo Micromon che davanti ha un ingresso cuffie sia con jack grande sia con jack piccolo quindi ammazza se stando nell'orecchio. Più che altro poi c'è anche la possibilità con questo cavo di farselo passare bene dietro le orecchie e sta uuuh diciamo che una prolunghina non sarebbe male eh la prendo. Sembrano veramente molto interessanti sentiamo per prima cosa quanto stoppano la batteria. Un po' però non eccessivamente quindi non vanno a eliminare troppo le frequenze alte eccetera. Adesso però passiamo al Micromon allora il Micromon praticamente ha la possibilità come potete vedere qua di avere un monitor input dove praticamente potete andare ad esempio a mettere la vostra spia. Quindi se avete tutta la band in spia la fate entrare qui dentro e poi un'entrata mic cioè un'entrata mic non significa che per forza deve essere il cantante. Ma ad esempio vi faccio vedere se io prendo il mio iPad gli collego il cavo e poi lo faccio andare al Mic input questo qua tramite cavo XLR cioè tramite cavo Canon in pratica. Io potrò andare a far partire ad esempio un metronomo a 120 che ce l'ho qua sull'iPad e poi io tramite questo controller potrò andare ad aumentare o diminuire il mio click. In questo modo è una figata perché ad esempio non lo so voi nel monitor input vi mettete la vostra spia quindi tutta la band e però voi dovete suonare a click. Quindi nel Mic input come ho fatto io adesso andrete a inserire il metronomo. In questo modo di qua andrete a gestire la vostra spia il volume di tutta la vostra spia. Di qua andrete a gestire invece il livello del metronomo. Questo è veramente super 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 comodo. Non posso ovviamente farvelo sentire perché lo sto sentendo io in cuffia e questo controller questo amplificatore qua di segnale non ha un'uscita perché alla fine serve solo per farlo sentire in cuffia ma vi assicuro che è veramente una bomba pazzesca. In più uno che non vi ho ancora detto è il monitor input lo potete avere stereo e tramite questo adesso ve lo faccio vedere di qui. Qui avete questo mini switch che fa passare da mono a stereo vedete qua che c'è scritto mono stereo. Tramite questo switch potete decidere se ascoltare tutto in mono quindi tutto uguale nelle due cuffie oppure se switchare dall'altra parte e sentire in stereo quindi un po' meglio in teoria diciamo. Parlandovi invece di P2 e PM1 allora in pratica questi sono molto simili spengo il metronomo magari perché mi dà un po' fastidio. Questi sono degli amplificatori anch'essi super piccoli e super tascabili super piccoli non pensavo fosse così tanto piccolo. Ammazza me lo aspettavo almeno il doppio almeno il doppio guardate che piccolo è veramente minuscolo la figata di questo in accoppiata anche a no in accoppiata o uno o l'altro poi dovete decidere. Ah questo qui questo qua è invece il P2 della Weringer e sono super fighi questi sono molto simili sono degli amplificatori di segnale anche questi quindi ottimi ancora più piccoli di questi perché se guardate veramente il PM1 è minuscolo guardate quanto è grande in confronto all'altro. Il P2 invece è un pochettino più grande ma questi hanno la figata che voi avete un ingresso di qua e un volume finito. Per prima cosa sono tascabili diciamo cioè vi attaccate questi alla cintura e siete a posto e poi vi gestite il segnale cioè il volume tramite questa manopolina qua. La differenza sostanziale è che questo è solamente mono questo è stereo infatti questo ha un'entrata XLR cioè Canon e i Canon possono essere solo mono mentre questa è la possibilità di entrare Canon oppure Jack quindi i Jack possono essere stereo. E in più la differenza è che questo è molto più potente quindi se avete bisogno di tanto volume andate su questo questo la figata che costa meno è che è veramente lungo come un mio indice. Quindi detto questo adesso vi voglio spiegare però come fare a gestire le sequenze quando dovete andare a suonare live perché molto spesso i batteristi devono gestire le sequenze. Faccio un piccolo cambio perché vado a usare questo mixerino qua andiamo a metterlo al posto del micromound micromound detto micromound collegato il tutto. Allora qui che cos'ho qui ho un ingresso mono quindi mic o linea quello che voglio e poi ho due ingressi stereo quindi 2 3 4 5 2 uscite quindi ovviamente stereo le cuffie che vado ad attaccare subito perché sennò poi me le dimentico e non sento niente. E qui ho tutti i vari controlli per il primo canale ho anche un mini equalizzatore per frequenze alte e frequenze basse invece per il canale 2 3 4 5 ho solo il pan cioè il bilanciamento destra sinistra e un volume. Ho il volume delle cuffie diverso dal volume main e questo è importantissimo perché se voi alzate le cuffie non andrà a influenzare il master. Questo è una cosa importantissima in alcuni casi. Adesso vi spiego che cosa ho fatto praticamente sono andato sulla mia DOW sul mio programma software di registrazione e sono andato a prepararmi una base diciamo composta da metronomo e da un basso. Ho fatto finta che la mia sequenza fosse un basso che facevo tut 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 vabbè dopo la sentite. In questa base però non ho messo solo metronome basso e basta, cioè come strumenti sì, ma ho deciso di mettere il basso tutto a destra e il metronomo tutto a sinistra come bilanciamento. In questo modo collego il mio iPad che è ancora sul metronomo, vado a metterlo sulla canzone, vado a collegarlo con un cavo a Y che vi lascio anche questo sotto in descrizione e da una parte è jack piccolo, quindi vado a collegarlo al mio iPad. Dall'altra parte avrò due XLR, vi ricordate che vi ho detto i jack e stereo, dall'altra parte avrò due XLR che saranno tutte e due mono. Uno andrò a collegarlo tranquillamente all'ingresso 1, mentre l'altro essendo Canon io ho bisogno di jack, quindi tramite questo cavo qua che mi fa da adattatore andrò a collegarlo nel canale 2. In questo modo, facciamo così, collego anche l'out così vi faccio sentire che cosa succede. Io ho tutti i miei livelli a 0 sul mixer, se io vado a far partire la mia base non sentirò niente ovviamente perché ho il livello 1 che sarà la mia parte sinistra, quindi il metronomo, a 0 e il livello 2 anche. Sentite se io aumento un pochettino le cuffie, un pochettino il main così potete sentire anche voi e sentite cosa succede se aumento l'1. Sentite che il metronomo sta aumentando di brutto, ma solo il metronomo, ma io ho anche la base, quindi perché non aumenta la base? Perché praticamente io il metronomo sono andato a spostarlo a sinistra e collegando questo cavo mono sul primo canale, io se aumento il primo canale sento solo il metronomo. Per sentire anche la base cosa devo fare? Dovrò aumentare il 2. E quindi io posso gestirmi come voglio i miei segnali. Voglio solo metronomo? Abbasso il 2 e tiro sull'1. Voglio solo base? Abbasso l'1 e tiro sull'2. Sentite che qui non c'è metronomo assolutamente e qui non c'è base. Forse adesso l'ho tirato su un po' troppo, mi sono fatto un po' male, ma posso tirarlo su quanto voglio. E contate che siamo a neanche metà del volume, quindi ha volume da vendere questo mixer. Quindi che cosa faccio adesso? Sento il metronomo, sento la base, vado a suonare e poi vado a regolarmi i volumi in base a quello che mi serve. Sento il metronomo, sento la base. Io adesso ho messo un loop, infatti come avete visto ho finito e il loop continuava. Ma quello che potete fare live è andare a gestire in questo modo le vostre basi. Quindi voi in pratica andrete a mettere sulla destra la vostra base o sulla sinistra, è uguale, basta che da una parte mettete la base, dall'altra mettete il metronomo e poi lo potrete gestire super 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 tranquillamente in modo velocissimo. In questo modo, se poi volete qualcosa di un po' più, tra virgolette, professionale, perché il problema di questo qual è? Il problema è che in questo modo avrete due canali mono, quindi il click ce l'avrete mono e vabbè chi se ne frega, ma la base ce l'avrete mono, quindi non avrà stereofonia. Se volete le sequenze in stereo, quindi le basi in stereo, allora dovreste farvi mandare sia il click, mettendolo tranquillamente su questo canale qua, sia la base in stereo però. Quindi andando a inserire tutte e due i cavi che vi arrivano per quanto riguarda la base, inserendoli tranquillamente uno, vi tolgo questo così vedete meglio, uno qui dove ho inserito quello di adesso e l'altro sotto, perché questo è un canale stereo. Quindi avete la possibilità di mettere L e R nello stesso canale. Andando poi a aumentare o diminuire il volume, diminuirete o aumenterete tutte e due i volumi di questo canale. Ultima cosa che vi dico, perché li ho tenuti per tutto il video per provarli, non ve ne ho ancora parlato più di tanto, sono la questione in ear. Allora, ammetto che sono molto fighi perché io ho un po' tra virgolette un problema con le orecchie, nel senso che gli in ear molto spesso mi si tolgono, abbastanza semplicemente. Questi devo dire che sono belli grossi, ma non pesano e non mi si tolgono dalle orecchie. Come avete visto li ho tenuti per tutto il video, non ho mai dovuto fare così, 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 ma li ho sempre tenuti tranquillamente. Anche per quanto riguarda il suono, ho provato a tirare su prima anche quando avete sentito un bel po' su il volume, ma non hanno dato problemi, non hanno mai gracchiato niente. Quindi ottimi e devo dire che si sente molto bene. Quindi per questioni live assolutamente consigliatissimi, più che altro per il prezzo che hanno, andate a vederlo qui sotto in descrizione. E volendo anche per ascoltare la musica, forse per ascoltare la musica sono un po' grandini, ma per situazioni live assolutamente sì. Io non andrei a spendere troppi soldi per gli in ear. Quando ho degli in ear del genere, che sento bene, sono comodi, non si rompono perché hanno un cavo bello spesso e quindi direi che vanno benissimo. Quindi, come avete potuto vedere, questo mondo del... come si dice? Del monitoring, del fatto di sentire e utilizzare il mixer per andare a suonare meglio, in pratica. Perché se sentiamo bene, suoniamo bene. Tutto questo mondo non è nulla di troppo, troppo, troppo complicato. Spesso c'è la cosa di dire, uh, assolutamente non so come fare con le sequenze, col metronomo, come faccio? Così, come vi ho fatto vedere oggi, spendendo praticamente pochissimo, andiamo a sentire bene. Abbiamo la completa gestione di tutto quello che stiamo suonando, di tutto quello che stiamo sentendo, più che altro. E quindi, spero che questi consigli che vi ho dato oggi vi siano stati utili. Ragazzi, mi raccomando, portatevi sempre dietro, anche alle prove banalmente, portatevi sempre dietro, ad esempio, il Micromon che vi ho fatto vedere all'inizio. Perché vi salva la vita. Perché, appunto, non sempre avrete un segnale che vi arriva abbastanza potente. Quindi, quello è un amplificatore, lo tirate su finché volete e non avrete più nessun problema di segnale, nessun problema di volume. Più che altro, perché a me è già successo, ve lo dico per esperienza personale, mi è già successo di andare a suonare e non avere un amplificatore del genere e sentire il click bassissimo. Quindi, stare due ore durante il concerto con l'ansia di riuscire a seguire bene il click perché lo sentivo troppo basso. Quindi, raga, mi raccomando, insieme a questo, poi se avete quello, se avete il mixer, se avete il PM1, il P2, quello che volete, ma tenetevi sempre un salvavita nello zaino. Oltre questo, mi raccomando, prendete dei linear monitor buoni. Non per forza super costosi, ma da sentire bene perché suonerete meglio. Con questo, io vi saluto qua, vi ricordo che c'è l'articolo con altre informazioni qui sotto, leggibile, sul sito Gastube. Ringrazio ancora strumentimusicali.net per aver... non c'era più niente dentro, tranquillo, non... Io vi saluto qua, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, se avevate un po' di questi problemi per quanto riguarda live, cose che... Intanto mi scrivete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!